Musica Lavorate per la pace, l'appello di Papa Francesco al G7 a Borgognazia in Puglia da capi di Stato e di Governo intesa sui nuovi 50 miliardi di dollari all'Ucraina e sul sostegno al piano di finostilità di Zelensky. La famiglia uccise in casa dall'incendio divampato da una auto-officina. Le fiamme si sono estese alla palazzina di Milano dove vivevano padre, madre e figlio. Sono deceduti per l'inalazione dei fumi, evacuati gli altri residenti dell'edificio. Il ritorno di Kate alla principessa del Galles che sta combattendo con la malattia torna in pubblico. È una meravigliosa notizia, commenta il premier britannico Sionac. 12.01, buon sabato mattina dal TG2000. In apertura la richiesta di pace della storica partecipazione di Papa Francesco al G7 a guida italiana. L'Italia stupisce, ha affermato la premier Meloni alla chiusura dei lavori. Sentiamo Augusto Cantelmi. È l'immagine simbolo del G7 in Puglia. La guida italiana, ma è anche un'immagine storica quella di Francesco tra i potenti della terra. Primo Papa a partecipare ad un vertice G7. E ancora a Borgo e Ignazia tra i vigneti del Salento, per due giorni al centro del mondo, riecheggiano ancora le parole del Pontefice sui rischi dell'intelligenza artificiale. Condanneremo l'umanità a un futuro senza speranza se sottotraessimo alle persone la capacità di decidere su loro stesse e sulla loro vita. E di crisi umanitarie e guerre il Papa ne ha discusso con i leader mondiali in una serie di faccia a faccia. Temi che sono stati al centro del G7 nelle conclusioni spazio soprattutto alla guerra in Ucraina, con il sostegno a Kiev di 50 miliardi frutto degli asset russi congelati. Per quanto riguarda il Medio Oriente spazio alla diplomazia americana per il raggiungimento di un cessato il fuoco a Gaza, a protezione anche delle vittime civili. Suppressione francese viene richiesta la tregua olimpica durante i giochi di Parigi. Nelle conclusioni non si trova la parola aborto, mentre si esprime preoccupazione per la riduzione dei diritti di donne, ragazze e della comunità LGBT. Il G7 pugliese si è concluso ieri sera con una cena informale, il concerto di Bocelli. In questi giorni l'Italia è stata al centro del mondo e gli occhi del mondo sono stati puntati su di noi. Era una grande responsabilità e io sono orgogliosa di come la nostra nazione sia riuscita ancora una volta a stupire e a tracciare la rotta. E intanto sul lago di Lucerna in Svizzera al via la conferenza dedicata all'Ucraina. Fra i presenti il vice premier Antonio Tajani e la vice presidente USA Kamala Harris, i leader del summit affermano di non voler cedere alle provocazioni di Putin. Marco Burini Si può fare la pace senza il nemico? Ovviamente no. Ecco perché la conferenza internazionale che ha preso il via stamattina in Svizzera non metterà fine alla guerra in Ucraina. Ci sono rappresentanti di oltre 100 paesi, ma non quelli della Russia, non invitati, e della Cina, insistentemente invitati da Kiev, ma che hanno declinato per non scontentare l'alleato. Comunque Putin si è fatto sentire, dettando le condizioni per la tregua. Lui si tiene le quattro regioni nell'est parzialmente occupate, Donetsk, Luansk, Zaporizia, Kherson, e l'Ucraina rinuncia a entrare nella NATO. È la stessa cosa che faceva Hitler quando diceva, «Datemi una parte di Cecoslovacchia e finisce qui, ma dopo c'è stata la Polonia, poi l'occupazione di tutta l'Europa», ha replicato Zelensky, che ieri ha incassato sostegno e soldi, tanti soldi, dal G7 in Puglia, dove ha pure stretto la mano a Papa Francesco, tenacemente impegnato a tessere la tela diplomatica, rifiutando la logica bellica, armi su armi, eserciti contro eserciti e la popolazione in mezzo. Il boss del Cremlino ha detto che in Ucraina sta impiegando quasi 700.000 soldati. Decine di migliaia di uomini su entrambi i fronti hanno già perso la vita, sacrificati da governanti senza scrupoli e senza coraggio. Medio Oriente, raid israeliani a ovest di Rafa, nella striscia di Gaza. Il molo umanitario è stato temporaneamente rimosso per le cattive condizioni del mare. Sentiamo Massimiliano Cocchi. Dall'alba di oggi, l'artiglieria e gli elicotteri israeliani stanno colpendo il campo di Shabura, ad ovest di Rafa, una delle zone più densamente popolate della striscia. Combattimenti vengono segnalati anche in altri quartieri della città. In particolare, blindati dell'esercito israeliano starebbero avanzando verso il quartiere di Tal el-Sultan, situato a nord della città. La jihad islamica, l'organizzazione terroristica che assieme a Damas controlla la striscia, ha risposto lanciando due missili contro Shderot. Non sono segnalati né feriti né danni. La situazione umanitaria continua a peggiorare. L'esercito americano, a causa delle cattive condizioni meteo, si prepara a smontare il molo provvisorio costruito davanti a Gaza City per far arrivare gli aiuti dal mare. La prospettiva è che la guerra duri ancora a lungo. Non ci sono infatti progressi né negoziati per il cessate il fuoco e la liberazione degli ostaggi, soprattutto dopo che Hamas ha detto chiaramente di non sapere quanti siano gli ostaggi israeliani ancora vivi, mentre il portavoce delle brigate Al-Qassam ha riferito della morte di altri due di loro, affermando che sono stati uccisi in un bombardamento israeliano sulla città di Rafa. E continua il pellegrinaggio di pace della Cardinale Matteo Zuppi, Presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Lo ha intervistato la corrispondente da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti. Essere vicino, aiutare per quello che possiamo con la nostra presenza. Tanti che vivono una sofferenza terribile da soli, possiamo dire, in una contraposizione fortissima, ha colpito tanto la gioia di essere ascoltati, la commozione direi, di essere ascoltati in questo momento qui. A poche ore da sorrento in Italia, il Cardinale Zuppi lascia la Terra Santa ancora più convinto della necessità del ritorno dei pellegrini, impresse nel cuore l'incontro con Rachel, mamma di un ostaggio a Gaza, e quello con i bambini di Betlemme, malati o con problemi in famiglia. A spiegare come non c'è una classifica del dolore. Questo ci porta che c'è soltanto un amore che deve sapere rispondere al dolore del figlio, suo e del figlio, e al dolore di quei tanti che a Gaza hanno perso la vita, stanno perdendo la vita, hanno perso tutto, come lei. Guardando i bambini palestinesi, dobbiamo ricominciare dalla loro voglia di vivere, dal loro diritto di vivere e dall'insensatezza di colpire, come è successo il 7 ottobre, come è successo nei mesi successivi, i più deboli, i più fragili. Bisogna trovare delle risposte opportune. Arriviamo comunque tardi, perché sono stati troppo a guardare. Bisogna che le regioni siano presenti con la loro voce per aiutare la via della pace. Torniamo in Italia con l'incendio in una palazzina di Milano. È morta una intera famiglia. Le fiamme sono divampate da una auto-officina. Raffaella Frullone. Le fiamme sono divampate attorno alle 19 di ieri sera da un'auto-officina in via Fra Galgario, in zona Gambara, a Milano, e hanno raggiunto velocemente i primi tre piani di un palazzo. I primi due erano al momento vuoti, le tre vittime si trovavano tutte al terzo. Il rogo sarebbe partito dalle operazioni di sostituzione della marmitte di una Volkswagen. Ho sviluppato un incendio in un'officina su, verosimilmente, un'auto che era in riparazione. Questo ha miscato, ovviamente, per la presenza di benzina, quindi di materiali altamente infiammabili, un incendio non controllabile, che verosimilmente ha interessato dell'altro materiale combustibile come pneumatici, che conseguente hanno provocato un fumo straordinario. Le tre vittime dell'incendio sono Silvano Tollardo, 67 anni, sua moglie Carolina De Luca, 63, e il figlio della coppia, Antonio, di 34. Tutti sono stati trovati nel loro appartamento invaso dalle fiamme e sarebbero morte, secondo una prima ispezione del medico legale per intossicazione. Secondo i testimoni, il fuoco sarebbe divampato in modo molto rapido, rendendo di fatto impossibile la gestione dell'incendio. Tra i feriti, anche il titolare dell'autofficina da cui è scaturito l'incidente. Ancora la cronaca con nove arresti per pedopornografia e 26 indagati in tutta Italia. Davide Murgia. C'era anche l'aberrante guida del pedofilo tra le migliaia di file pedopornografici sequestrati dalla Polizia Postale di Catania, che ha dato il via ad una maxi operazione in tutta Italia con nove persone in manette, 26 indagati per detenzione e divulgazione di materiale pedopornografico e varie perquisizioni. Gli inquirenti hanno sequestrato dispositivi, pc e telefoni cellulari in diversi città. I file dell'orrore con abusi su bambini anche piccolissimi erano conservati tramite supporti informatici o in cloud. L'operazione è scattata grazie ad una complessa attività di analisi informatica su alcuni dispositivi elettronici sequestrati ad un indagato arrestato mesi fa per le stesse condotte sui quali all'interno di una piattaforma di messaggistica sono stati trovati gruppi specializzati nello scambio di immagini e video raccapriccianti con abusi anche su bambini in tenerissima età. Meticolose e complesse indagini anche di natura estremamente tecnica hanno portato all'identificazione dei soggetti attivi sui gruppi nei confronti dei quali la procura distrettuale di Catania ha emesso provvedimenti di perquisizione personale e informatica solo ieri è stato arrestato per pedofilia anche un noto speaker radiofonico. L'Associazione Nazionale Magistrati pronta allo sciopero dovrà rafforzare e moltiplicare la nostra capacità di comunicazione un giorno, due o tre, non è una questione di giorni tutti quelli che serviranno nel momento in cui sarà necessario. Lo ha detto il presidente dell'ANM Giuseppe Santalucia nella relazione con cui è aperto la riunione del Comitato Direttivo Centrale parlando della riforma sulla separazione delle carriere. E si avvicina lunedì la scadenza del pagamento dell'acconto dell'IMU principalmente dovuta per le seconde case mentre avverte la CGA di Mestre l'evasione fiscale in Italia supera gli 84 miliardi di euro. Nicola Ferrante Tempo di scadenze fiscali sul sorgere dell'estate si comincia con l'acconto IMU scadenza imminente alla cassa entro lunedì 1022 euro il costo medio per anno escluse le prime case se non di lusso fra le novità stop al pagamento su immobili occupati rimborso ai proprietari di quanto pagato in passato taglio del 50% per quelli incomodato a genitori e figli Roma la città più cara sul fronte entrati in arrivo le 14esime sempre da lunedì e fino a metà luglio la riceveranno 8 milioni di lavoratori dipendenti importo medio 1500 euro il 95% ha già deciso come spenderla per vacanze e lavoretti in casa infine il nodo evasione resta altissima 84 miliardi di euro il mancato gettito soprattutto nel mezzogiorno ma si abbatte come piaga su tutti i contribuenti onesti grazie alle 190 banca dati il fisco sa tutto o quasi su chi è conosciuto al fisco mentre brancola completamente nel buio nei confronti di chi non lo è con il risultato che questi soggetti siano essi persone fisiche o società continuano ad evadere penalizzando oltre misura chi le tasse le paga fino all'ultimo centesimo e ora ci spostiamo nella Repubblica Democratica del Congo che è fra i quattro paesi colpiti dalle conseguenze dell'alluvione che mesi fa ha inondato villaggi ancora sommersi sentiamo l'allarme di un missionario nel servizio di Maurizio Lischino villaggi, campi e strade sono ancora sotto l'acqua straripata dal lago Tanganyika che si è ingrossato con le abbondanti piogge degli ultimi mesi quattro i paesi africani interessati Repubblica Democratica del Congo Burundi Tanzania e Zambia l'ONU stima che 471.000 persone e 451.000 ettari di terreno siano stati investiti dalle inondazioni nelle aree attorno al Tanganyika colpita anche la missione dei religiosi saveriani a Duvira ad est della Repubblica Democratica del Congo l'acqua scende difficilmente è molto poco in un mese e mezzo è scesa forse di un centimetro o due questa è la nostra passerella per poter accedere alla casa senza dover usare le piroghe e purtroppo è così bisogna assolutamente poter fare dei lavori al fiume di uscita la Lucuga a Calemi per poter far sì che l'acqua defluisca e liberi un po' la zona e adesso il ritorno di Kate la 42enne principessa del Galles che sta combattendo contro la malattia torna in pubblico è una meravigliosa notizia ha commentato il premier britannico Sionac sentiamo Caterina Dall'Olio Riecco Kate non ha ancora finito la chemioterapia preventiva a giornate buone e giornate meno buone ha scritto nel post su Instagram in cui è riapparsa sta imparando ad avere pazienza ma sta bene abbastanza da partecipare oggi alle manifestazioni per il compleanno di Re Carlo il Trooping the Color il Molle e Buckingham Palace si tingono dei colori dell'Union Jack in questa giornata importante per la corona inglese che come sempre si trasforma in una grande festa di popolo il messaggio con cui ha scelto di tornare ha un tono semplice ricorda quello del video con il quale la principessa che era stata operata a gennaio all'addome aveva fatto sapere a marzo di avere il cancro anche la foto che accompagna il post la mostra bella come sempre ha scelto di riapparire in pubblico per festeggiare Carlo il suocero re che come lei sta combattendo contro un tumore la pioggia non ha fermato migliaia di persone radunate davanti ai cancelli del Palazzo Reale per salutare dopo tanto tempo la loro principessa è tutto vi lascio a Borghi d'Italia con Mario Placidini che ci porterà le Vico Terme in provincia di Trento grazie del vostro tempo per averci seguito e buon sabato arrivederci